buongiorno da tv news oggi 24 aprile e san fedele di sigma ring e della giornata mondiale per gli animali del laboratorio questa ricorrenza è stata istituita nel 1979 nasce come catalizzatore del movimento sociale che vuole porre fine alla sofferenza degli animali nei laboratori scientifici possiamo sostituire tecniche scientifiche barbare con tecniche moderne più avanzate che non hanno bisogno di essere viventi ogni anno milioni di animali soffrono e muoiono gli esperimenti in cui non ci si può fidare sebbene metodi scientifici avanzati sostituiscano costantemente la ricerca effettuata sugli animali leggi nazionali solete richiedono ancora test obbligatori su di essi prima che un prodotto possa essere in mezzo sul mercato